C'è un'autorità in ogni regione d'Italia dove puoi avere giustizia per i tuoi problemi con le telecomunicazioni. È il Corecom. Bollette sbagliate, sospensione del servizio, servizi non richiesti, mancata o ritardata attivazione del telefono di casa, di internet o del cellulare. Questo servizio funziona. È gratis. Iscriviti al nostro canale. Iscriviti al nostro canale.